Benvenuti sul mio canale, oggi condivido con voi la ricetta di cosce di pollo alla pizzaiola cotta in forno. Iniziamo! Per prima cosa uniamo le cosce di pollo all'interno di una ciotola e iniziamo a speziarle. A me il pollo piace particolarmente speziato, dunque oltre al sale e al pepe ci ho aggiunto anche il curry e la fabbrica come nosate. Quindi di questi due spezi potreste farne a meno, dunque ho aggiunto l'aglio e la salvia e iniziato a mescolare rigorosamente con le mani. Sarebbe opportuno farlo riposare un'oretta o ancora meglio una notte intera in frigo. Dunque dopo averlo fatto riposare, lo inizio a disporre all'interno di una teglia. La pellicina intorno alla coscia non la levo per il semplice motivo che durante la cottura rilascia un po' di grasso che contiene e risulta più morbido un pollo. Adesso prima di infornare in un ciotolino metto un po' di polpa di pomodoro, condisco con un po' di origano, un pizzico di sale, mescolo per bene e ci vado a coprire il pollo all'interno della teglia in questo modo. Dunque adesso metto un forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40-50 minuti. Passato il tempo tiro fuori la teglia, cospargo di mozzarella julienne e in forno di nuovo per altri 10 minuti. Il risultato finale sarà questo. Una ricetta semplicissima e golusa. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale cliccando sul campanellino per rimanere sempre aggiornati sulle mie ricette. Grazie.